ciao ragazzi oggi facciamo costruzioni alimentate ad energia solare con il set solar power dell'angino un sistema di costruzioni che abbiamo visto qualche tempo fa qui su gbr e che permette ragazzi di fare delle costruzioni particolarmente grandi è un sistema molto flessibile vedremo infatti in questo set si possono fare ben 16 modelli totalmente come avete già intuito anche diversi tra loro ma lo vedremo tra un attimo partiamo dalle le istruzioni ovvero o meglio due manuali uno dedicato alla parte scientifica educativa un gioco stem ovvero che tramite la pratica permette di apprendere principi di fisica meccanica scienza insomma in generale eccetera proprio facendo giocando ci sono degli esercizi basati sui modelli di cui possiamo che rispondere alle domande prendere appunti e un quiz per vedere ragazzi se abbiamo letto e appreso per bene tutto quello che ti segna il manuale sulle energie rinnovabili tra cui ovviamente anche quella solare abbiamo poi le istruzioni allora 9 sono cartacee altre 7 per arrivare al totale dei 16 modelli le troviamo online però c'è anche un'applicazione sia per smartphone che per tablet ios e android che permette di andare a costruire quindi la nostra costruzione con a fianco adesso la vediamo tutto un mondo tridimensionale che si apre si chiude eccetera e semplifica vedete quante tipi di costruzioni si possono fare pur considerando che ovviamente è un sistema di costruzioni quindi queste 16 sono le suggerite poi sta a noi magari andarci ad inventare qualcosa di personalizzato è il bello insomma delle costruzioni ma partiamo dalla costruzione di questo mulino alimentato quindi ad energia solare ecco se non c'è il sole eccetera il motore può comunque essere anche alimentato da due pile stilo AAA quindi mini stilo scusate AAA che andremo ad utilizzare nella seconda costruzione che faccio tra un attimo l'applicazione ha anche una distinta di tutti i pezzi che mi servono e poi un tutorial passo passo che mi permette qua c'è scritto che è ottimizzato per la serie inventor girl ma l'ho trovato anche perfetto non ho avuto problemi a ricostruire anche proprio il mulino in questo caso con questa parte dell'applicazione è veramente molto semplice ed intuitivo perché avete visto passo passo poi pensate che adesso io sto mandando avanti ma voi potete andare lì col ditone ad andare a ruotare la costruzione vedere tutti i punti di vista eccetera iniziamo ad unboxare i vari elementi tra cui un pannello solare quindi quindi come pannelli solari che vediamo sui tetti delle case solo che questo alimenterà i nostri giochi andiamo ad aprire il resto delle costruzioni e poi andiamo a selezionare quelle che ci serviranno per andare a costruire il mulino ed eccoci qua vedete ho utilizzato la distinta pezzi dell'applicazione e siamo pronti per iniziare ragazzi a costruire volevo farvi rivedere ma vi linko che qua sotto il primo video che ho fatto sugli engino è il sistema di costruzione particolare vedete in questo caso la i due pezzi ruotano in quest'altro caso tramite questa congiunzione invece il l'attacco è bello è solido ma può essere non solo in parallelo vedete in diagonale a diverse direzioni in cui può essere impostato e qui sta il segreto della flessibilità di engino che permette di fare avete visto ben 16 modelli con un unico set anche questo pezzo è veramente tatticissimo questi gradini permettono di andare a scegliere la lunghezza proprio che avrà questo pezzo quindi più lungo o meno lungo iniziamo a costruire la base anche questo mulino è veramente grande dimensioni perché gli engino permettono appunto per la resistenza una plastica molto molto rigida permettono di fare delle costruzioni particolarmente grandi che stanno perfettamente in equilibrio ben pesate eccetera con i pezzi a disposizione con appunto una grande flessibilità ora inizio a costruire quelle che sono le gambe del mio mulino e pian piano avete visto abbino pezzo dopo pezzo di seguito è molto semplice avendo l'applicazione tridimensionale che veramente consiglia dove andare se avete qualche dubbio eccetera permesso che non posso distaccare ricominciare ma così proprio si va dritti dritti all'obiettivo andare a girare eccetera è veramente spettacolare come fare un puzzle ma con la tridimensionalità è del caso ho costruito anche la seconda zampa del mio mulino e poi sono pronto pian piano a salire fino a iniziare a pensare di creare quello che sarà il box che contiene il mio motore allora in questo caso io ho scelto di alimentarlo solamente questa costruzione col pannello solare quindi se volete lavorare solo col pannello solare non ci potete mettere le pile dentro e quindi le pile ci vanno messe solo se volete utilizzare le pile altrimenti non lo potete fare cioè nel senso o scegliete l'alimentazione solare o scegliete l'alimentazione a pile non c'è uno switch tra una e l'altra avete visto posso inserire volendo le mie pile ma vi dicevo ragazzi non lo farò era solo per farvi vedere dove si vanno ad inserire le pile con le mini stilo quindi le AAA ora vado a inserire nel case che ho creato il mio motore che avete visto a tre tasti allora un tasto spegnimento e due tra virgolette per l'accensione in realtà sono la rotazione in senso orario oppure anti orario del motore quindi non sono due velocità ma è la direzione del motore vero e proprio per andare a fare le pale sinceramente rispetto alle istruzioni ho preferito avete visto andare a togliere il sistema di pale e andare a montarlo dopo perché lì dove c'era anche il fulcro di rotazione secondo me era un po ballerino il montaggio preferito staccarlo vado come ultimo ad attaccare il cavo e sono pronto ragazzi ovviamente ho dovuto aspettare due giorni perché arrivasse il sole perché ci vuole un bel raggio di sole vedete che va sul pannello solare se c'è un po di nuvola un po velato ragazzi non funziona va molto molto lento per cui un bel raggio di sole con anche l'angolazione giusta tutte le informazioni che trovate si trovano poi all'interno del manuale poi si possono fare anche degli esperimenti ovvero cercare magari di coprire un pochino il pannello ma poco poco perché vedete appena lo copro lui si ferma lo copro lui si ferma gli do un po più energia ma poco poco vedete perché basta pochissimo perché il nostro pannello poi non riesca più a muoverlo è veramente una soddisfazione costruirlo e poi vederlo muoversi col sole cioè ti fa veramente venire l'idea che in effetti ci vuole un futuro fatto ragazzi di energie sostenibili ora questo pezzo a cosa serve a smontare perché soprattutto sui pezzi che non hanno la guida per uscire diciamo quelli un po ciechi appiccicati l'uno con l'altro questa specie di pinza inclusa nella confezione aiuta veramente tantissimo a staccare i pezzi che vi dicevo sono belli in plastica resistente sono molto rigidi fanno fare delle grandi strutture ma toglierli con le mani in effetti a terribile ok per cui abbiamo questa pinza che in effetti devo dire soprattutto sui pezzi molto ciechi aiuta cioè quelli dove non c'è vi dicevo la guida qui avete visto ho inserito le batterie un po perché ci tenevo anche vedere la differenza di potenza del motore alimentato a energia solare e a batterie devo dire che anche se l'ho provata su due costruzioni diverse è praticamente identica cosa ragazzi sto andando a realizzare ora allora sì ci sono le ruote di mezzo sì davide sei fissato a fare cose che si muovono tu i radiocomandi cose varie sì lo so ragazzi sto facendo qualcosa che ha le ruote e ho sbagliato un po di volte a mettere la ruota che mi sbattiva ma andava montata bene dovevo guardare bene le istruzioni allora sto facendo il trattore il trattore mi piaceva un sacco perché è spettacolare anche se va avanti con le pile non energia solare ho utilizzato il pannello perché in tutte queste costruzioni il pannello fa parte proprio anche della struttura della costruzione con cui viene realizzata e questo quindi come vedete c'è sempre un case per il motore che ho realizzato anche in questo caso che viene rinforzato da quella che poi la struttura avete visto superiore che sono andato ad inserire questo è il sedile del guidatore e poi ci vado a mettere le due ruote ottima la qualità della gomma io sono fissato anche sulla qualità della gomma cioè se un giocattolo ha una buona qualità della gomma solitamente è veramente un buon giocattolo per andare avanti bene ci vuole grip ragazzi quando avanti e questo è il trattore quasi finito quasi finito perché manca la parte retro e qua che si va a inserire infatti il pannello solare poi con questi due morsetti che agganciano il laratro che sta dietro sul motore è veramente bello poter anche vederlo scendere salire scendere eccetera e il design mi è piaciuto mi è piaciuto molto veramente molto azzeccato anche come si combinano i colori di engino che nei loro set hanno tre colori quattro colori cinquattro credo non di più ma si avvengono molto molto bene volendo insomma nel caso fosse stato alimentato a legge solare avete visto mettevo il cavo ma non serve in questo caso questo è dalle varie angolazioni e questo lui che va ragazzi possiamo mandarlo quindi avanti e possiamo mandarlo indietro ovviamente è movimento perfettamente rettilineo anche se solo una ruota che viene alimentata dal motore ragazzi se avete domande commenti e informazioni vi aspetto qua sotto se questo video vi è piaciuto un pollicione noi ci vediamo i prossimi video qui su gbr ciao ciao davide